Anche vincitore a Saremo lo scorso anno che sono agli stadio e di cui io suonavo i destieri nella prima formazione. Questo è un po' un esempio veramente di musica prog. La canzone era molto complessa nel film, io faccio sentire la prima parte dove si sente proprio l'antitesi rispetto al minimalismo che abbiamo ascoltato adesso del brano di Brian Nino. Questo pezzo, il mio brano, la musica è mia, il testo era di Lucio Dalla, ma la parte musicale che seguo è la mia parte di pianoforte e si chiama Un fiore per anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.